Un ciclone catalogato come tempesta tropicale di categoria 5 si è avvicinato all'arcipelago di Vanuatu, vicino alla costa orientale dell'Australia. Inondazioni e venti fino a 185 km orari hanno colpito Tuvalu, Chiribati e le isole Salomone, causando danni significativi. A Vanuatu è stato emesso un avviso di criticità e dichiarato lo stato di allarme rosso a livello nazionale. Quello che preoccupa davvero è il vento forte che potrebbe scoperchiare e distruggere case, sradicare alberi e linee elettriche, oltre a provocare eventuali onde anomali, tipiche di tempeste come questa. Non si tratta dell'unico ciclone abbattuto così sull'area. Altri due tifoni di minore intensità stanno toccando in queste ore le coste australiane. Gli abitanti dell'isola di Vanuatu si stanno preparando come possono all'arrivo della fase più intensa del ciclone che dovrebbe essere sentito per la maggior parte nella capitale.